Il libro di cui parliamo oggi è Il sussurro del mondo di Richard Powers, uno scrittore americano. È il suo dodicesimo romanzo e ha vinto nel 2019 il premio Pulitzer. Il romanzo è fatto come un albero, nel senso che è diviso in varie parti. La prima è intitolata Radici, poi tronco, poi chioma e poi semi e già in questo ci dà l'idea di come la letteratura può in qualche misura imitare la natura. Protagonisti sono vari personaggi cui i destini si intrecciano e convergono verso un unico obiettivo che è salvare, salvare gli alberi, salvare una sequoia in particolare, una sequoia gigante che rischia di essere abbattuta in California. Una delle protagoniste principali, Patricia, detta Patty la pianta, da bambina ha cominciato a parlare tardi, ma molto presto invece ha imparato il linguaggio degli alberi, per così dire. Diventata adulta, ha studiato le piante, si è laureata, si è addottorata, anzi in botanica e grazie ai viaggi fatti col padre conosce benissimo tutti i boschi più importanti degli Stati Uniti e ha imparato a decifrare il codice delle piante. Sappiamo che oggi è un tema di attualità scientifica e non solo il modo in cui le piante comunicano. Ecco, questo romanzo riesce a farci sentire attraverso le parole, attraverso gli strumenti della letteratura, riesce a farci sentire la voce dei personaggi umani ma anche la voce dei personaggi vegetali, degli alberi. non è per questo un libro che banalmente sostiene le idee green, naturalmente è un libro animato da un sentimento ecologista, ma va anche al di là. È un libro che in qualche modo, come dire, ci dà una visione straniante del mondo che ci circonda, del mondo vegetale e non solo, e che sposta le nostre coordinate, le nostre coordinate conoscitive. Vi leggo soltanto due righe della bellissima prima parte del libro. Un coro di legno vivente intorno alla donna. Se la tua mente fosse una cosa un po' più verde, ti sommergeremo di significato. Il pino a cui è appoggiata dice ascolta, c'è una cosa che devi sentire e ascoltiamo con Powers la voce degli alberi nel sussurro del mondo.